Buongiorno, benvenuti a questa sedia stampa di oggi martedì, 23 ottobre? Allora, cosa succede? Sui giornali tutti quanti parlano della lettera che ieri ha mandato il ministro Tria, tutti d'accordo, Di Maio e Salvini all'Europa per spiegare la nostra manovra, cioè spiegare loro che la nostra manovra, che prevede un deficit del 2,4%, che in realtà non è il numeretto giusto, il deficit, perché il numeretto giusto si chiama deficit strutturale, che è un'altra cosa, sulla quale Moscovici, l'Europa e tutti quanti i tecnici si incapoliscono. Detto questo, l'Italia continua a pensare che deve fare questi debiti e l'Europa oggi, probabilmente, con tutta probabilità, ci dirà che non si può fare questo scostamento. Oggi, tra i vari commenti, mi stupisce quello di Francesco Daveri, che è il fondo del giornale, cioè l'editoriale del Corriere della Sera. Mi stupisce perché una delle questioni che sta passando come se nulla fosse è che vi è, perché l'ho scritto ovviamente l'Europa, ma noi in realtà anche gli economisti talvolta approfondiscono non troppo, vi è una corposa deviazione dell'obiettivo di deficit strutturale, cioè il deficit nostro strutturale sarebbe allo 0,8% AUG, Giorgio, in realtà doveva essere un surplus strutturale dello 0,4%, quindi balla l'1,2%. E Daveri ha tecnicamente ragione, io sono dell'idea, ve l'ho già detto cento volte, che il problema qua non è il deficit, ma è buttare nel cesso i soldi come stiamo per fare, con il reddito di cittadinanza, quota 100 e tutte le minchiate che sta facendo questo governo. Il punto fondamentale non è certo il deficit, ma come viene utilizzato questo deficit. Aperta la parentesi e chiusa la parentesi. Ma quando leggo Daveri, che mi spiega che il problema è questo scostamento strutturale, io dico, caro Daveri, se ti fossi letto ieri perotti, come abbiamo fatto noi e voi della zuppa lo conoscete, che certo non è un simpatizzante di questo governo, avresti letto che il nostro deficit strutturale anche nel 2016 è stato molto corposo e molto superiore, invece che l'1,4% o l'1,2% a quello che prevedeva l'Europa. Ma è lì il punto, è la cosa che mi fa vendare in bestia. Questi stanno facendo una manovra di merda. Ma il problema è che questa manovra verrà bocciata non perché fa schifo, e cioè che si occupa del reddito di cittadinanza, ma per il motivo che già Renzi si era mangiato senza aver combinato nulla, tranne forse l'industria 4.0, che comunque è una defiscalizzazione, si era ballato 30 miliardi di euro di flessibilità. Perché questo non lo ricorda nessuno. Cioè siamo in questa condizione, certo, perché comandano questi qui, ma prima cosa ci abbiamo fatto con la flessibilità? Abbiamo cambiato il paese? Abbiamo riformato il paese? Beh sì, forse se questi non smontassero pezzo per pezzo le poche cose buone fatte prima sarebbe meglio, ma detto questo, detto questo, mi sembra che oggi paghiamo il prezzo di quello che è successo ieri. Il titolo migliore oggi sulla politica lo fa Libero, morte a Bolzano, e dice PD al 3,8%, Forza Italia all'1%. Non che fossero particolarmente forti questi due partiti in Trentino-Alto Adige, ma la cosa fondamentale è che lì a Trento non vince il centrodestra, parliamoci chiaro, lì vince la Lega, vince la Lega che arriva al 27%, fa 20 punti percentuali in più rispetto alle ultime elezioni, e scalfisce il dominio del PD ventennale, poi per il resto, ciao Anna Maria, ciao ti ascolto dalle Canarie, beata te. L'altra vicenda, ci sono altre vicende oggi che mi divertono moltissimo, ma quella forse che oggi mi diverte più di tutte è la questione di Marco Travaglio. Marco Travaglio è il duro e puro, è il grande difensore di onestà, onestà, onestà. L'onestà su che cosa si basa? Per Travaglio si basa sul suo giudizio, ma per tutto il mondo normale l'onestà si base sulle decisioni di una magistratura che decide se una persona ha commesso o no un illecito. Questo vale per tutti, ma non per Travaglio. Non per Travaglio che oggi ci fa due palle così, perché è stato condannato! L'hanno condannato, guardate un po' voi, per la vicenda di Tiziano Renzi, il papà di Matteo e per tutta quella vicenda incasinatissima di Consi. non me ne fotte nulla di quella vicenda, mi fotte che il Tribunale Civile di Firenze fotte e condanna Travaglio, in primo grado ci sarà la sentenza, vedremo, è innocente, non me ne frega niente, ma lo condanna in primo grado a pagare 95.000 euro di risarcimento a Tiziano Renzi. Quando un giornalista è condannato per cose di questo tipo, io mi dispiace, perché noi viviamo sul pelo della sopravvivenza, come ben i grillini sanno, augurando la morte ai giornali, come hanno augurato la morte al Foglio, hanno augurato la morte a chi altro? A quell'altro giornale, a Repubblica gli hanno augurato la morte. Ecco, siccome viviamo tutti in questa condizione, noi giornalisti li scriviamo ancora nei giornali e non godo delle difficoltà degli altri, però fatemela dire una cosa, quando io leggo che Travaglio fa il fenomeno oggi, dopo che è stato condannato, sapete, noi non siamo sponsorizzati da concessionari o società pubbliche, che il Movimento 5 Stelle ha appena detto che vuole che le sponsorizzazioni delle aziende pubbliche le decidano loro, sostanzialmente, se voi andate a sfogliare il fatto quotidiano, c'è la pubblicità dell'ENI, e chi cazzo è l'ENI? Da chi è controllata? Da Babbo Natale? Chi è che nomina l'amministratore delegato dell'ENI? Di Maio. Chiaro? Conte e Di Maio. E allora perché? Perché devi fare il fenomeno? Perché devi dire che non sei sponsorizzato? Certo, forse non ti sponsorizzano la festa del fatto, ma c'è una paginetta dell'ENI, come tutti noi morti di fame, e i soldi dall'ENI li hai presi? Li hai presi? Sì o no? Sì. E allora non scrivere che non sei sponsorizzato dalle aziende pubbliche, non scrivere che non godi di finanziamenti pubblici, perché, caro mio, Repubblica, Corriere, Giornale, non hanno finanziamenti pubblici, non sei l'unico, noi paghiamo milioni di euro al giornale, ma vado altro, avanti, nella piagnucolata di travaglio. Gran parte della magistratura è genuflessa al potere politico. Beh, vabbè, questo è stupendo. Cioè, spiegatemi un po' voi, quando la magistratura arresta i mafiosi, è buona. Quando la magistratura fa stato mafia, è buona. Quando la magistratura per vent'anni rompecoglioni a Berlusconi, è buona. Quando la magistratura si occupa dei ladrocini in tutta Europa, che poi diventano, in tutte le regioni italiane che poi vengono tutti assolti delle mutande verdi, dei furti dei consiglieri regionali, è buona. Quando un magistrato, quando i magistrati condannano Berdini, condannano Berlusconi, condannano tutti, è buona. Quando un magistrato si permette di farti pagare 95.000 euro perché hai diffamato senza Lorenzi, beh, allora è genuflessa al potere. Io guarda, non so come dire, mi scaldo troppo, anzi mi prendo un po' di caffè. L'ultima cosa, in Italia fare un buon giornale libero e che incontra a favore dei lettori non basta. No, non basta, perché c'è il magistrato che ti fotte. Salvini, mezza coscia della Boschi, è stupendo. Stivali, mezza coscia della Boschi, ricorda Françoise, oggi lo leggete sul giornale. Il giornale che se la prende con la magistratura, in prima pagina, oggi, il fatto, che cosa dice? Evasori in carcere. Sparita la promessa di Salvini e Di Maio di portare gli evasori in carcere, cioè il giornale che quando lo condannano dice, oh, la magistratura è genuflessa, cosa vuole? Vuole che gli evasori vadano in carcere e che ci sia una norma ancora più punitiva, che oggi esiste perché gli evasori oggi vanno in carcere, e chi lo decide se gli evasori vanno in carcere? I magistrati, gli stessi che sono genuflessi, in quattro righe precedenti di me, io dico, è fantastico, da una parte sono genuflessi e dall'altra parte gli diamo maggiori poteri. Bello il titolo del giornale di oggi, decrescita infelice perché in realtà il terzo trimestre il PIL cresce dello 0,1%, a me interessa poco se questo PIL sia cresciuto o decresciuto in funzione di quello che ha fatto il governo, temo che non sia tanto questo governo a far decrescere il PIL, questo governo sicuramente ha contribuito a rialzare lo spread che è un costo per le casse pubbliche, ma il PIL è una cosa un po' più complicata, è come una locomotiva che prima di fermarsi ci mette un po', si stava già fermando prima, ma perché mi interessa la questione del PIL? Perché se tu cresci allo 0,1% e oggi andiamo a dire che l'anno prossimo cresceremo dell'1,6%, o ti sei fatto dei funghetti, che cosa che escluderei visto Conte, allucinogine intendo, oppure, voglio dire, stai raccontando a balla, quale delle due? Nelle proposte di questo governo del Ministro Buongiorno c'è quello di assumere prima 460.000 dipendenti pubblici e il secondo è quello di fare assunzioni straordinarie oltre ai 180.000, oltre 180.000 dei turnover dipendenti pubblici, va bene, allora dobbiamo assumere più dipendenti pubblici, poi dopo oggi sul messaggero in prima pagina scopri che c'erano 40 giardinieri che stavano imboscati, che avevano detto che stavano lavorando, invece non stavano lavorando, e probabilmente i dirigenti, come dice giustamente il messaggero, che cacchio stavano facendo, allora io mi chiedo, e vi chiedo, porca puttana, ma secondo voi il tema è di assumere più persone nel settore pubblico? Avete mai provato a fare una carta d'identità a Roma? Avete mai visto come funziona un giardino a Roma? Avete mai visto come queste cose avvengono in moltissime altre comuni d'Italia? Ecco, la soluzione qual è? È assumere più persone. Quando vi dicono che quota 100 serve a qualcosa, sapete a cosa serve? A mandare in pensione 170.000 dipendenti pubblici a 62 anni e assumerne altrettanti. Allora, secondo voi il tema è assumere nuove persone o far lavorare quelle che ci sono? Non è che lo dico in maniera demagogica? Ve lo chiedo soltanto come piccolo elemento di riflessione. Ultima questione su Italia Oggi straordinaria, straordinaria, e vi racconta la truffa di 55 miliardi, e l'altra cosa che a me mi fa impazzire, l'Italia è un paese di evasori fuscali, il fatto chiede le manette agli evasori. Il Tribunale di Colonia, ci ricorda oggi Tino Oldani su Italia Oggi, penso che vi dovete incorniciare, hanno beccato dei funzionari, dei manager bancari tedeschi, secondo la procura di Colonia, che hanno fottuto rimborsi di pagamenti di imposte sostitutive per 55 miliardi! 55 miliardi! Dicono che l'evasione fiscale in Italia è di 100 miliardi, io non ci credo. Una sola truffa in Germania ne vale 55, va bene? 55 miliardi, sapete che facevano? Erano funzionali di banche importanti e facevano il cosiddetto dividend washing, cioè ogni volta che si doveva pagare un dividendo facevano finta di spostarlo da una parte all'altra, da una mano all'altra attraverso divisioni internazionali e poi dicevano di richiedere i rimborsi per l'imposta sui dividendi pagata nel paese in cui in quel momento stavano i titoli. Una complessa truffa finanziaria che si chiama CUMCUM, che sembra una battuta, ma questa cacchio di truffa rendeva 55 miliardi, 4,5 miliardi fottuti soltanto ai contribuenti italiani, cioè allo Stato italiano che ha rimborsato queste banche per 4,5 miliardi. Quando vi dicono che noi siamo un popolo di evasori, sì, forse c'è il famoso, la cagata, l'artigiano, il parrucchiere che non vi ha fatto la fatturina e era ricevuta per 40 o 50 euro e che comunque ha lo studio di settore, ma pensate bene, non voglio fare il demagogo, ma pensate bene che quando vi dicono che siamo solo noi, che c'è forse qualcun altro che in maniera un po' più scientifica. Noi ricordate che il SAP, il meccanismo, no? Avete presente il tedesco? Ecco, quella roba lì la fa bene scientificamente. 55 miliardi non ce l'ho con i tedeschi, ce l'ho con noi stessi, che non riusciamo a capire come in realtà l'illegalità e l'evasione fiscale c'è ovunque. Da noi, col 50% di tassazione, voglio dire, qualche volta c'è anche un'evasione di sopravvivenza. Copyright fassina. Appuntamento domani con la zuppa di Porro e sul mio sito nicolaporro.it per tutte le novità di giornata, anche perché oggi si attende la risposta europea. Ciao!